Benvenuti su meteogiuliacci.it, domani domenica 2 settembre l'Italia sarà ancora sotto l'influenza del vortice di bassa pressione e della perturbazione numero 1 del mese di settembre che raggiungerà le estreme regioni meridionali. Vediamo l'immagine del satellite virtuale, ancora l'instabilità con questa nuvolosità che ruota attorno al minimo, minimo che rimane bloccato perché sia ad ovest che a est è chiuso come tra due tenaglie da due aree di alta pressione. Il tempo allora per la giornata di domenica vedrà ancora instabilità diffusa su tutta l'Italia con rovesci e temporali possibili ovunque, ci saranno anche delle pause ovviamente ma comunque la situazione rimane ancora abbastanza compromessa. Per quanto riguarda le temperature queste saranno in ulteriore lieve calo soprattutto sulle regioni meridionali comprese tra 22 e 24 gradi al centro nord, ancora qualche punta di 28-29 gradi sulle estreme regioni meridionali. Termino qui, vi ringrazio per l'ascolto, ancora una buona giornata.